Non si placano le polemiche sul coordinamento dell'area vasta 3 portato da Civitanova a Macerata. Nei giorni scorsi l'attacco del centrodestra all'assessore regionale Sara Giannini, che ha definito oggettivi i criteri di assegnazione del coordinamento al capoluogo. Oggi l'intervento del portavoce del PDL in regione, Erminio Marinelli, che sottolinea come Civitanova con la nomina del direttore Bordoni alla guida dell'area vasta maceratese, sia stata buggerata per la seconda volta in soli dieci giorni. Ha stretto giro di posta la risposta dell'assessore regionale all'accusa del PDL in regione. A noi non interessano le discussioni di potere. Sappiamo bene che nel momento in cui riduciamo gli spazi, passiamo da 13 zone a 5 aree vaste, lasciamo da qualche parte qualche scontento. Se ci fermassimo a questo saremmo immobili conservatori e non è quello che ci interessa. Il centrodestra accusa il governo regionale di spartizione politica della sanità. È chiaro, dice Marinelli, che oggi servono gli yes men. Tuttavia con questo modo di procedere qualcuno anche nel PD troverà il coraggio di denunciare un'amministrazione che fa della sanità terreno di grazia della politica. Per Mezzolani tuttavia le cose stanno diversamente. Noi abbiamo introdotto una riforma profonda, semplificando il sistema, alleggerendolo nella sua burocrazia, cercando di spostare risorse dalla burocrazia ai servizi. Non basta questo al centrodestra che con Marinelli vede sottratta alla città anche la competenza dell'attuale direttore Marini, a suo dire sganciato da logiche partitiche e politiche, le stesse che vengono tuttavia rivendicate dall'assessore regionale alla sanità. È un'amministrazione regionale, un governo regionale. Non è che si può perdere dentro le dispute di potere perché non farebbe alcuna riforma. Noi dobbiamo produrre riforme e poi il resto si aggiusta. Grazie. Grazie.